Veniamo adesso a farvi la scheda tecnica del nuovissimo Google Pixel 2, il nuovo nato della casa di Manta in Vallee in collaborazione anche grazie all'acquisita HTC e i suoi brevetti. Con questo nuovo cellulare Google si propone due obiettivi. In primi sfidelizzare i clienti già ex Nexus e in seguito di cavalcare una nuova linea di tendenza per fare concorrenza ad Apple e Samsung. Il nuovo Pixel 2 infatti farà largo ricorso alla tecnologia. Il tutto per merito dell'intelligenza artificiale IAQ sarà applicata ovunque. Grazie alla telecamera principale sarà possibile riconoscere oggetti e persone. Potrà dialogare con i dispositivi in casa. Grazie ai suoi innovativi auricolari, potrà fare traduzioni in tempo reale. E molto altro ancora. Insomma l'obiettivo è chiaro portare sul mercato un prodotto davvero rivoluzionario in grado di aprire nuove linee di tendenza. Ovviamente lo smartphone Google Pixel 2 quarantesima monta l'ultima versione di Android. Ha un touch screen da 5 pollici per una risoluzione pari a 1920x1080 pixel. Per il trasferimento dati dispone del collaudatissimo modulo LTE4 e per la connettività Wi-Fi, GPS e A-GPS. La fotocamera frontale raggiunge la risoluzione record di 12,2 megapixel, per una risoluzione pari a 3968x2976. Il sistema operativo è il famoso Android 8.0 Ore, con tutte le patch sulla sicurezza. Ovviamente tutto questo ha un prezzo che si aggira sui 1000 euro in linea con i concorrenti Samsung e Apple. Scheda tecnica Pixel 2. Sistema operativo Android 8.0 Oreo. Dimensioni 145.7x67.7x7.8 mm. Peso 143 grammi. Rete quad band con sim card nano e sim. Processore quad core 2,36 gigahertz Crio con chipset Qualcomm Snapdragon 835 con tecnologoia a 64 bit. RAM 4 gigabyte espandibile fino a 128. Display 5 pollici 1080x1920. TAC screen. Multi-TAC. Protezione Gorilla Glass 5. Fotocamera 12,2 megapixel. 3968x2976 pixel. Stabilizzatore. Autofocus. Touch focus. Flash. Geotouching. Video 4K con autofocus. Rete Wi-Fi. Bluetote. NFC. GPS. AGPS. GLONASS. Trasferimento dati GPRS. EDGE. UMTS. LTE. HSPA. Sensori accelerometro.